Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo al concessionario due ruote a Piacenza in compagnia di Roberto e di Matteo e della nuovissima Leoncino 800, questa è la versione stradale, poi vi mostrerò anche prossimamente la versione quella trial. Oggi vi mostro un po' come al solito la moto come è fatta, il design, vi descrivo un po' le caratteristiche, poi insieme a Roberto e Matteo la accendiamo, ci salgono anche sopra e poi domani vedrete il video anche della prova. Per quanto riguarda l'estetica ci sono due colorazioni esattamente come per la trial, si può avere la moto sia con questo grigio oppure l'altra opzione è quella verde, è una moto molto bella come estetica, è molto curata, molto più di altre moto giapponesi, me ne viene in mente una in particolare, comunque si, guardate davanti sul parafago anteriore il Leoncino della Benelli, questo è un bellissimo particolare che c'è anche sulla Leoncino 500, all'anteriore c'è il faro a led con un bel design e guardate anche la seda, la scritta Leoncino, insomma è tutto, secondo me è molto curato anche il logo Benelli sul serbatoio, è una bella moto da vedere, anzi diciamo che rende molto meglio in dal vivo che non in foto, è bello anche questo grigio. Per quanto riguarda invece le caratteristiche, vi ricordo che la moto monta il motore della TRK 800 che arriverà, non si sta ancora bene quando, ma comunque si arriverà in teoria breve, la moto monta il motore bicilindrico, cilindrata a 7,54 euro 5, potenza a 76 cavalli a 8.500 giri, mentre la coppia a 67 newton metri a 6.500 giri, una moto che pesa in marcia 222 kg, quindi pesa di meno rispetto alla Trail che pesa un po' di più, altezza sella 805 mm, quindi qua la sella è più bassa rispetto sempre alla Trail, serbatoio invece lo stesso, 15,3 litri, ciclistica, telai tralici in acciaio, sospensioni con la forcella stile rovesciate da 50 mm, regolabile in compressione in sessione precarico, impianto frenante con un doppio disco all'anteriore da 320 mm con pinze radiali a 4 pistoncini, nel posteriore un singolo disco da 260 mm con pinza a 2 pistoncini, la moto è gommata 120-180 con cerchi a 17, ABS presente e adesso vediamo la strumentazione, è uno schermo TFT, bello ampio, guardate che bella che è l'animazione, che sembra anche essere ben leggibile, accendiamo va bene, e adesso ci saliamo sopra e vediamo un po' come si sta, ok quanto sei alto? io sono alto 1,90 e ce l'ho ovviamente benissimo, la posizione comunque delle gambe non è troppo rannicchiata, per cui mi trovo abbastanza comodo, ok invece prezzo? il prezzo è 7.490 più matricolazione, ok quindi ragazzi se vi interessa l'Aleoncino 800, loro sono a Piacenza, in via, via Beatti 25, a Piacenza, e hanno oltretutto anche altre moto, insomma un po' tutta la gamma della Benelli, da questo video è tutto, domani la prova, ciao a tutti! ciao!